Che c'è? Che hai fatto? Cane cattivo, aggressivo, con giocherello. Ma chi è stato? Faglielo vedere chi comanda. Tratte lui con quelle zampette, dimostraglielo. Faglielo vedere. Ma chi è più forte? Oh, voglio far muovere noi chi comanda. No, che il pupazzetto vuole fare quello con le corna. Eglielo, chi ha le corna veramente qua chi è? L'unico è solo Benji. Eh. Sei un cane da combattimento tu, da attacco, da difesa, da caccia, da estrema sopravvivenza. Eccolo, guardatelo, signori. Seguitelo e condividetelo sul canale di Greta Stasi. Condividete i suoi video. Facciamo diventare Benji una vera star. Ciao. 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 Grazie.